In questo video parliamo di forme, le forme per la nostra resina. Le più comuni sono quelle in silicone che io non utilizzo perché mi piace dare alla resina una forma particolare, ben specifica, più che altro la scelgo io in fase di lavorazione. Ad esempio questo pezzo di qua diventerà un esagono perché in base a quello che c'è dentro e alle misure se dovessi farlo tondo viene molto piccolo. Quindi farò qui una forma esagonale. Cosa uso per le forme io? In questi casi ho utilizzato il plexiglass, ho fatto delle casseforme in plexiglass dopo aver preparato il legno strappato che strappo tramite un giratubi. Poi cosa faccio? Spennello con la resina la parte strappata, la lascio asciugare applicando i colori o quello che serve. Una volta asciutto, creo la cassaforme, la metto in questa posizione e faccio la colata di resina. Perché faccio così? Perché il legno contiene sempre delle microbolle. Quindi se io non spennello prima il legno, quando vado a fare la colata di resina, che vi ricordo deve essere fatta a temperatura minima di 15-18 gradi, non meno, altrimenti le bolle praticamente saranno tantissime e vi servirà il sottovuoto. Quindi dicevo, la faccio in questo modo affinché le bolle del legno non salgano su ma rimangono inglobate sotto. Una volta fatta la colata, uscito fuori il pezzo, decido poi che forma dare. In questo caso è un pezzo abbastanza lungo, quindi deciderò per una forma ovale o anche qui per un quadrato, smussando gli angoli, oppure potrò smussare questo angolo e questo qua dietro, in maniera da fare una forma strana. Come vedete ne ho fatte tante. Dentro, inglobato, in questo caso, non so se li riuscite a vedere bene, sono dei trucioli di ottone, presi da un tornio. Forse qui si notano un po' meglio. Li vedete? Eccoli qua. Quindi, cosa abbiamo detto? Utilizziamo il plexiglass. Oltre al plexiglass utilizzo qualsiasi materiale plastico che posso trovare. Ad esempio, dei semplici barattoli che io taglio, creo questi cerchi di qua, li vado ad appiccicare con la colla a caldo su un quadretto sempre di plexiglass. Una volta appiccicati faccio la prima colata, una colata di un millimetro, un millimetro e mezzo, due millimetri. La lascio asciugare un po' e appena inizio a catalizzare, appoggio su gli elementi decorativi che voglio inserire all'interno del mio monile. Quali sono gli elementi decorativi? Posso inserire delle microsfere fatte in precedenza, posso inserire dei fiori secchi, come avete visto in questo monile di qua, questi sono dei fiori secchi. si possono inserire dei truccioli, si possono inserire dei pezzi di corteccia, dei pezzi di radica, come avrete visto in altri lavori che ho fatto io. Vi basta solo un po' di fantasia. Potete inserire dentro quello che volete, anche le caramelle. Una volta inseriti i pezzi, io cosa faccio? Spennello con i colori che voglio dare, o metto i glitter colorati che troverete in tutti i negozi dei cinesi o nei siti specializzati, la differenza sta nel costo. Questi costano 1 euro, quelli costano 10 euro. Lascio asciugare il tutto, aspetto qualche ora e faccio la seconda colata, arrivando esattamente al bordo della mia cassaforma. Fatto ciò, aspetto le mie 24 ore, se avete unito bene i due componenti così come specificato nelle istruzioni di ogni resina, perché ognuna ha la sua dose di componente A e B, nel mio caso parliamo di 10 a 6, otterrete un pezzo rigido come questo. Come vedete questo è sformato da una cassaforma fatta da me. È un barattolo, all'interno ho messo il proprio tappo ed è uscito fuori uno di questi. Ovviamente questo è grezzo, andrà lavorato, andrà inserito all'interno di un altro monile oppure potete inserire altre cose dentro, scegliete voi quello che volete inserire. Quindi cosa uso io? Io uso tutto, uso tutto ciò che trovo in giro di plastico per fare le forme. Utilizzo quindi i barattoli, utilizzo come vedete il plexiglass messo sotto, queste di qua sono delle forme che io ho fatto solo per non buttare la resina a fine lavorazione, perché mi restava sempre un po' di resina, allora ho preparato dei cerchietti e ho detto man mano butto la resina. Un'altra cosa che potete utilizzare oltre al plexiglass è lo scotch trasparente, ma la cosa importante è che dovete sempre ben sigillare il punto del quale la resina non deve passare. In questo caso vedete la colla a caldo, qui c'era appiccicato il plexiglass come su ogni lato. Quindi una volta appiccicato il plexiglass e fatto questo bordino, chiusi i lati, siete sicuri che la cassaforma è perfettamente integra e non scenderà la resina, perché prima l'abbiamo spendellata, vedete? Che qua è diverso il colore dal legno grezzo al legno spendellato, quindi non potrà mai colare sotto. Fatto ciò, otteniamo i pezzi che vogliamo. In realtà io ho comprato una forma in silicone, ma adesso vi dico perché l'ho comprata. L'ho comprata perché mi resta la resina e non la voglio buttare. Allora ho preso questa formina dai cinesi che era in offerta e ci ho buttato dentro tutta la resina che mi è rimasta. Ovviamente io di questa non me ne faccio niente, le sto tenendo a riempimento per poi tagliarla a pezzi e fare quello che avete visto qualche sera fa. Se vi ricordate il famoso dente di leone che trovate nei miei video. Il dente di leone non è altro che un pezzo di questa resina, purtroppo è andata male perché non sono riuscito a staccare i due tubicini interni che erano molto duri, quindi ne ho staccato un pezzo, l'ho lavorato e ho fatto il dente di leone per mio figlio. Quindi detto ciò, molti, devo dire la maggior parte, utilizzano gli stampini in silicone. Devo dire che la scelta dello stampino in silicone è una scelta molto oculata per chi vuole attenersi alla forma data dello stampino. Quali sono i pregi dello stampino in silicone? Sono quelli che se è uno stampino lucido e fai bene la colata, una volta uscito gli fai il buco, gli metti la catenella e lo vendi o lo regali. Nel mio caso, che amo complicarmi la vita, non è così perché io, tutti i miei stampi sono completamente diversi e storti, tutti i miei stampi devono essere lavorati, quindi ci metto parecchio tempo per dare una forma e scegliere il soggetto finale del mio monile. Questa forma a cuore, come vedete, non è fatta con lo stampino, è una forma che va buttata, ma in ogni caso l'ho tenuta per farvi vedere una cosa. Questa forma a cuore l'ho fatta sempre con un barattolo. Non ho fatto altro che prendere uno degli stampini, uno stampino di questo, l'ho tagliato sulla parte superiore, vediamo di fare questa brutta figura, dovrei che cosa ho fatto? Ho unito le punte qua sotto, le ho attaccate sulla base sulla base in plexiglass e poi ho curvato la prima mettendola con la caldo, ho curvato la seconda mettendola con la caldo e ho creato la forma del cuore. Ovviamente, così non ve la posso far vedere, ma vi assicuro che la forma era questa. Quindi, la fantasia è quella che vi aiuta. potete anche non spendere nulla, utilizzare tutto quello che avete a casa. Io tengo da parte tutto quello che trovo, tengo da parte anche i tappi, perché ogni pezzo dà una forma diversa. Quindi, sta a voi decidere se fare dei pezzi unici come quelli che io ho scelto di fare ormai o se comprare gli stampini e fare a ciclostile. Lo stampino vi dà ovviamente la possibilità di non usare completamente le carte vetrate perché lo stampino essendo lucido vi dà il pezzo già pronto. Dovete soltanto essere bravi una volta tolto dalla forma di rifare una leggera colata sulla parte superiore e vedrete che è pronto per utilizzarlo. Nel mio caso, come avete già visto nel video che pubblicherò che ho pubblicato sulla litigatura, per arrivare da un pezzo così a un pezzo così vi ho fatto vedere che in 17 minuti